Era il 29 dicembre 2020 quando la comunità forinese, già provata da nefasti effetti della pandemia, veniva scioccata dalla prematura perdita dovuta ad un mal incurabile di una sua cittadina di soli 30 anni, Elena Esposito, prima mamma, poi ancora ragazza solare, giovane, bella e disponibile con tutti. Il sindaco Antonio Livieri ha voluto insieme ai suoi familiari organizzare un evento podistico. Forino corre il ricordo di Elena e si è svolta una gara aperta a tutti con distanza finale di 6 km. Le associazioni sportive irpine e del territorio non ci sono fatte pregare ed hanno partecipato in massa alla Kermesse, dall'Avelino Runner del presidente Nando Romano a Carmine Tommasone. Il Mr. Wolf ed ex campione mondiale del pugilato ha tolto i guantoni e indossato le scarpette. La manifestazione non riguardava solo il polismo e chi non ha praticato la corsa ha comunque passeggiato il percorso prestabilito e chi ha preci il via da Piazzetta a Caracciolo. La gara non competitiva ha visto tutti gli iscritti non pagare nessuna quota per gareggiare, e si è voluto soltanto unire il cuore di tutti e chi ha voluto ha devoluto un'offerta benefica a scopo umanitario. È proprio vero quando si dice che le persone non muoiono mai se le hai nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce, ma ciò che è imparto da loro, ciò che ti hanno lasciato, questo non lo perderai mai. Ed Elena nella sua forino ha lasciato soltanto ricordi belli, ricordi indelebili, e dal cielo avrà guidato uno a uno i partecipanti alla gara che la sua gente, la sua famiglia, gli ha organizzato.